tu sei f4 è casa tua sì proprio così io sono il signor wolf risolvo problemi bene ne abbiamo uno me l'hanno detto posso accomodarmi prego si accomodi e io lo so che come introduzione può sembrare drammatica e porci anche di fronte a una visione catastrofica della street photography però se ci fai caso ultimamente anche con l'avvento dei thread su instagram non passa giorno in cui non leggiamo ascoltiamo qualcuno che ci ricorda quanto dobbiamo migliorare i nostri scatti perché i nostri scatti sono banali perché mancano di unicità perché in una parola fanno cacare ecco se pensi che la street photography sia una sorta di x factor per fotografi dove tutti quanti cercano di superarsi a vicenda per vincere il titolo di miglior fotografo del quartiere o di quel circoletto quella oppure se pensi ancora che la street photography sia voler diventare a tutti i costi più bravo degli altri o peggio ricevere più like rispetto agli altri ecco se pensi che sono proprio questi il grande traguardo di uno street photographer vuol dire che c'è un problema e allora va risolto però prima di tutto per comodità partiamo da un assunto fondamentale la street photography non è uno sport e me lo sentirete dire spesso in questo video non è uno sport perché non ci sono gare da vincere come ci sono invece nei gironi di champions league oppure nel grande slam perché non è una gara di sollevamento pesi con le reflex oppure con le mirrorless e adesso mi spiego meglio ovviamente dopo la sigla la street photography contrariamente a quanto qualcuno pensa e dice non è una sfida per stabilire chi sia il fotografo più abile oppure quello più talentuoso la street photography non è una competizione per la foto più bella è un'espressione di noi stessi della città delle sue storie quindi per una volta lasciamo stare lasciamo da parte i concetti di migliore o di peggiore parliamo piuttosto di autenticità e di unicità questa visione competitiva tra l'altro non è soltanto riduttiva ma va completamente a mancare il punto essenziale della fotografia come una forma d'arte la fotografia in particolare quella di strada è un mezzo per esprimere la nostra creatività la nostra visione unica del mondo non è un campo dove misurare le nostre abilità contro quelle degli altri ecco perché non è uno sport e ancora una volta ripetiamolo tutti quanti insieme non è uno sport perché non ci sono linee di arrivo non ci sono vincitori e tantomeno ci sono vinti e se uno street photographer significa immergersi nell'ambiente significa ascoltare le storie che non sono dette significa catturare un sorriso uno sguardo un momento ogni fotografia racconta una storia diversa e il tuo modo di vedere il mondo attraverso l'obiettivo è quello che rende unica la tua fotografia non è una gara a chi vede meglio il mondo è un'espressione artistica e in quanto tale è un'espressione personale non ha senso perciò parlare di competizione quando l'obiettivo è la visione e la creazione artistica quello che invece è veramente prezioso nella street photography è lo scambio di esperienze e di prospettive tra i fotografi infatti la street è un'arte che richiede una continua esplorazione personale un impegno costante per scoprire per affinare il proprio sguardo e poi la propria voce e in questo contesto il confronto con gli altri diventa un'occasione di crescita e di apprendimento reciproco a patto ovviamente che ci sia rispetto per la propria individualità e per quella degli altri ma visto che la fotografia di strada non è uno sport non è neppure una competizione e quindi è piuttosto un viaggio personale alla ricerca della propria unicità e della propria autenticità attraverso la pratica e l'esplorazione ogni fotografo può crescere può migliorare e può imparare così a rispettare se stesso e anche gli altri la bellezza della street photography è più un caffè con gli amici che una corsa ad ostacoli e infatti la street photography deve essere un continuo scambio di ehi guarda che fotografia che ho fatto e da parte mia wow la tua fotografia mi ispira a provare qualcosa di diverso qualcosa di nuovo qualcosa che non ho mai fatto non ci sono medaglie d'oro ma è soltanto una tazza di caffè caldo e tante buone conversazioni come per esempio quelle che facciamo tutti quanti il giovedì sera nei nostri street talk il fulcro esattamente della nostra esplorazione qui in questo posticino è sempre stato quello di immergerci negli argomenti con una mente un po' aperta senza pregiudizi e assorbendo quindi tutte quante le informazioni possibili e gradualmente costruirci anche un'opinione solida e poi ben ponderata ecco questo viaggio insieme ci ha portato lungo un percorso di pensiero che non è convenzionale allo stesso tempo ci ha portato a sviluppare la curiosità che sta alla base di tutto quanto quello che faccio da quando ho iniziato a condividere proprio questo spazio insieme a voi nella società contemporanea ci troviamo spesso a proiettarci verso obiettivi futuri agendo nel presente con la speranza di plasmare quello che succederà domani però questo comporta spesso la nostra trascuratezza nell'agire per influenzare positivamente il nostro presente che forse è la cosa più importante senza rendercene conto infatti stiamo iniziando a percepire la necessità di un approccio meno focalizzato sul dove dovrò essere tra un giorno tra un mese o tra un anno e molto più attento invece a qui ad ora perché percepi questo ci permette di percepire autenticamente quello che siamo anche nella nostra passione che è la fotografia tentiamo troppo di controllare il futuro che però è pieno di incertezze perdiamo così il contatto con il presente e questo non è soltanto un esercizio di mindfulness perché infatti troppo spesso i consigli e i suggerimenti che riceviamo sul cosa fare su dove andare su cosa notare oppure chi conoscere ci distraggono da tutte quante le opportunità che invece esistono qui esistono ora e che ci fanno focalizzare su quello che invece è un'illusione mentale perché il futuro altro non è che una proiezione dei nostri pensieri non esiste soltanto quello che siamo adesso in questo momento è tangibile del reale quello che diventeremo invece è soltanto un puzzle composto dai frammenti di quello che esiste adesso e da quello che incroceremo nella nella nostra vita e nelle strade che la nostra vita prenderà in una società che corre che brama risultati immediati noi fotografi di strada dobbiamo prenderci il nostro tempo questo è il nostro obbligo morale ogni foto è un dialogo con il presente è un invito a rallentare e ad assaporare ogni momento l'arte della street photography ci insegna a valorizzare l'esperienza più che la destinazione non dobbiamo infatti fissare l'obiettivo come se fosse la cima di una montagna è un percorso lineare verso il successo senza distrazioni senza curve no perché in questo viaggio nella fotografia la vetta non è il nostro obiettivo ma ogni passo ogni attimo catturato è un traguardo a sé la nostra arte non si misura dall'arrivo in cima ma dalla ricchezza delle esperienze lungo il nostro percorso prendete per esempio cristoforo colombo il suo obiettivo era arrivare in india e invece ha scoperto l'america questo dimostra che quello che conta veramente il viaggio la scoperta l'esperienza e che la nostra destinazione in continuo cambiamento proprio come spesso cambia anche il nostro obiettivo come diceva seneca si volge ad attendere il futuro soltanto chi non sa vivere il presente ecco la nostra vita è un viaggio in cui ogni momento presente è prezioso e dovremmo dovremmo vivere ogni giorno con questa consapevolezza in un mondo che corre dove tutti quanti cercano tutorial scorciatoie trucchi la street photography ci invita invece a rallentare a guardare ad ascoltare a sentire per davvero non c'è scorciatoia che può sostituire l'esperienza l'errore il nostro apprendimento cari effenauti ricordatevi che la bellezza della street photography sta nell'unicità del vostro sguardo non lasciate che la competizione oppure la ricerca di approvazione di qualcun altro vi distolgano dalla vostra visione artistica e unica del mondo ogni fotografia che scattate è un pezzo del mondo visto attraverso i vostri occhi continuate perciò ad esplorare a sperimentare a sbagliare e a vivere ogni momento dietro il vostro obiettivo e soprattutto però non dimenticate mai che dovete divertirvi il nostro è un viaggio personale non è un episodio di chi vuole essere milionario imparate a rispettare la vostra prospettiva unica e se vi confrontate con gli altri fatelo per crescere e non per gareggiare quindi che dirvi lustrate i vostri obiettivi regolate i diaframmi e partite alla ricerca di quelle storie tra le strade che tanto ci piacciono ditemi cosa ne pensate di tutto questo nei commenti mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e soprattutto condividetelo con chiunque e ovunque se la pensate come noi ciao e alla prossima settimana e ci voleva pure soltanto che andava via la luce